A Sus, città della Tunisia, teatro di violenti scontri con la polizia provocati da salafiti, è morto un giovane di 22 anni, raggiunto alla testa da un proiettile. Difficile identificare i responsabili nella regione dove i salafiti ieri hanno attaccato e incendiato posti di polizia. Uffici municipali è un bordello. Per ritorsione dei cine di cittadini di Haidi Ben Hassin a Jendouba, hanno attaccato dei salafiti che si trovavano nella moschea Bilal Ibn Rabha. Grazie per la visione!